Il sabato sera di Italia 1 si colora di mistero con Roberto Giacobbo. Il tema è Misteri insondabili, parte 2. Sì, perché c'è ancora molto da raccontare intorno a temi e situazioni che sono molto difficili da spiegare. Freedom presenta Misteri insondabili, seconda parte, sabato, in prima serata su Italia 1.